È una procedura in corso, l'appalto è in itinere, così il direttore sanitario dell'ospedale di Sapri, Claudio Mondelli, riferisce alla nostra emittente in merito alla riattivazione del bar dell'Immacolata, chiuso ormai da oltre due anni. Una carenza unica tra gli ospedali della provincia di Salerno, che è stata denunciata a gran voce dalla CGLFP. Nonostante le promesse, siamo all'anno zero, ha detto Mimmo Vrenna. Sì, perché un anno fa la direzione generale dell'asola di Salerno rassicurò il sindacato che erano state avviate le procedure per un nuovo bando, ma di fatto al momento nessuna determinazione è stata assunta e quel punto di ritrovo e di conforto al piano terra dell'ospedale di Sapri non c'è ancora. E i disagi non sono pochi. La presenza di distributori automatici, scrive la CGL e i vertici sanitari, costantemente svuotati all'istante e quindi privi durante le restanti giornate di bevande e prodotti di ristoro, non risulta esaustiva. Molti sono i degenti, i visitatori e i dipendenti del presidio che ogni giorno non sono nella condizione di poter acquistare alcun prodotto, soprattutto in un periodo di emergenza per le alte temperature. Il tutto ovviamente aggravato dall'impossibilità di acquistare tali prodotti in altre attività commerciali, considerata la distanza del presidio dal centro abitato. Di qui la richiesta della CGL e manager dell'Asle dell'ospedale di addivenire ad una rapida soluzione del problema. Mondelli ci ha rassicurato che la procedura è in lavorazione. La speranza è che si sia in dirittura d'arrivo per non allungare ulteriormente la conta degli anni senza servizio.